per esempio a Civi c'erano i partitari della carne, si c'era esportata tutta la carne che era una delle fonti più cosegue di ricchezza per la città come ho detto l'Arbacio, l'Arbacio partiva tutto da qui da qui verso Malta, questa era tutta ricchezza infatti quando poi qualcuno cerca di ventilare che potevano sopprimere la procura speciale di Civi i giuretti scrivono subito all'armatissima camminata e dicevi in ginocchio, non lo guarda la procura perché in Civi può fare la ucca